Addio o arrivederci, è lo slogan che il gruppo calcistico di Magiate, frazione di Gatti Coveruno, ha lanciato per la gara di calcio che è in programma per sabato 29 luglio alle ore 16, al campo sportivo dopo un'attività quasi trentennale che sta per finire. E' iniziato un tam-tam e lo scorso sabato un gruppo era al lavoro per tagliare l'erba per rendere agibile il campo. L'obiettivo è quello di creare un nuovo gruppo per proseguire. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.